Benvenuti a tutti ragazzi, io siamo MagicSreal e oggi ragazzi come è il tuo attivolo, siamo qui in una nuova challenge, una fan challenge. E qui ragazzi la fan challenge consiste... Quindi ragazzi la fan challenge consiste nel fare 5 domande all'altro componente Ma chi è questo italiano? E quindi in questo commento dovrà indovinarne, nel caso dovrà mettere una foto con i capelli tirati all'insù all'indietro, sul MagicSreal. Vabbè, quando faccio il codino scusa eh! No no, quella gelatina. La gelatina non mi fa niente eh! Quella gelatina non mi fa niente eh! Ma se voglio dire non mi fa niente Sì Non è un po' Quindi è proprio interessante Però se vinco io tu devi andare Io sono anche 8 domande, mi fa niente Quindi ovviamente la foto nel massimo non la metteremo lo stesso giorno, cioè oggi che è mercoledina, la metteremo il giorno che uscirà quindi... Però la facciamo oggi Un giorno che uscirà Direi quale risposta perché inizia a fare domande Guarda Vi faré Metti da su, metti un giorno Si viene Un'obiettina Un'obiettina Non hai niente E' un'obiettina Domande sulla sua vita, quindi voi potete neanche non conoscere domande Colore preferito È un colore di accensione E' un colore di accensione Quei sono un minuto Ah, beh, vabbè nero, bianco, rosso rosso bravo Matteo allora tu quello che me lo sai ti faccio una domanda bella quanti canali ho aperto e il primo canale sentirebbe lozioni su uno di canali 3, 4, 5 con chi il primo canale? allora Francesco Zega e il canale? l'hai aperto 4 volte e l'hai fatto con Zega e che che? io ho i miei 3 canali il canale con te e un canale esiste siamo io e Tozzi e Francesco Zega fammelo vederti prego no questo è il video che ho visto vederti prego ti prego ti prego ti prego ok ragazzi siamo qua questo è il mio quinto canale dove l'ho messo in un video esatto mi dice tanti verso e non mi avevo fatto con Zega e mi facciamo mezzo punto ma mi facciamo mezzo punto cos'è i caldo di Fendonia? vabbè insieme con me non ci sono due non ci sono due non ci sono due non ci sono due no no non mi vergogna vedi a prendere quello di lo di no 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 ciao ciao no 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 nella l'altra video è spuntanata no fermo nella l'altra video è spuntanata no ripetivo è bello questo lo mettere nell'altro video no si no lasciam questo ok tanto ormai che cosa sta venendo che cosa sta venendo Sì, quando sei il primo, venga! Sì, non lo so! Sì, non lo so! Sì, non lo so! Sì, non lo so! No! Ma adesso mi faccio un'idea! Adesso mi faccio un'idea! Ma che basta, grazie! Allora... Gli hanno detto gioco chi ha? C'ho 4! Ecco... Mi ricordo che una volta ero uscito e ho detto che tu vivi fammi, che tu male male... Ma guarda, mi due a te ci vedo... Muage monica! BOOM BESH! Quante stanze ci sono? Mi sono dimenticato di dare le mie risposte, però... Ah niente! Ok, tutto ok! Sai fatto! La cucina, Il bagno e la camera del torno! E... la distanza di sotto poi sopra che resta le camere bagno e dopo e dopo tra diabolo che cosa è? uno e mezzo uno e mezzo allora ORBIT REOLUTION ORABIT ORABIT SMIT ERABIT FANTASTO CHI GIAZZO SON IO Ehi la madonna che ne so io quanti ho fatto prima dammi le opzioni eh eh e quattro sei sette sei no perchè ho fatto allora nuoto tennis basket alla nuoto kickboxing kickboxing vabbè sai qui palestra perchè palestra non importa io ho fatto un anno di volare eh quanti anni hai che sto facendo i po' chi è cinque sei o quattro quattro sei ma che è vero cazzo mi sembra essere uno sconso che c'è il portale in moto che fa anni di moto 8 ho preso anche pala al 9 non c'ho le mie opzioni allora 7 8 9 8 no no ultimano le mie opzioni ok non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è buon preferito opzioni ancora pizza o spaghetti allora allora se fossi si trovano vero direi 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 infatti sei stupida pizza 3 che ho avuto eh questo se mi la vede 8 9 10 9 perchè il 6 eh perchè la sbonna addosso alla panchina uno l'ha buttato per terra sotto casa mia che te sei distrutto e uno addosso alla panchina si è ragione ahhh mi tolgo da me non ho fasti i capelli bello quindi ragazzi seguite i sinistri e trovate il link di scrittura sotto la frase instagram matteo e aprirete la pagina medicsreal quindi quindi ragazzi questo video ci vedete come vedete iscrivetevi appunto voi siete qui ci sono dove vedete il prossimo video instagram e vi ringrazio la visione e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ecco a voi la clip di matteo che si fa gavendo i miei capelli sono qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.